no 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 stiamo preparando un nascondito seguito sulla collina che sta trattando la scuola se ti va puoi venire a dargli un'occhiata e insegna a noi per forza adesso che sai del nostro nascondito segreto non puoi piantarci in asso scusa perché lui vuole che venga con noi perché io ho parlato del nascondito segreto e no 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 vita vieni anche tu con noi sai perché se no vieni anche tu con noi devi venire anche tu con noi Eh no, Nobita, devi venire anche tu per noi Eh? Va bene Ciao Nobita! Ciao Shizuka! Non ditelo a nessuno In tesi stiamo preparando un nascondiglio segreto Sulla collina che sta dietro alla scuola Shhh Se ti va puoi venire a dargli un'occhiata insieme a noi Ciao Nobita! Ciao Shizuka! Non ditelo a nessuno In tesi stiamo preparando un nascondiglio segreto Ma dice che sembra un po' non titelo Ok, ma questa pausa proprio non c'era Va benissimo Entriamo dopo Ciao Shizuka Sì Aonobita! Ciao Shizuka! Tu? Non ditelo a nessuno In tesi stiamo preparando un nascondiglio segreto Sulla collina che sta dietro alla scuola Shhh Se ti va puoi venire a dargli un'occhiata insieme a noi Certo, tu sarai sempre la benvenuta Shizuka Eh no Nobita, devi venire anche tu con noi Per forza, ora che sei del nostro nascondiglio segreto Non puoi piantarci in asso Porta questa roba Ok Vabbè Sì lo so ma Eh ma lui è come un balde Ma adesso che scuola ho ripreso No perché questa qui l'avevamo assentita Eh 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 Ha ragione 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 Bravi 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 Stai riprendendo Bravi bravi Stai riprendendo 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 Grazie a tutti.